Venerdì si apre presso il Tribunale di Caltanissetta il processo contro i mandanti e gli esecutori materiali dell'omicidio di Adnan Siddiq, il giovane pakistano ucciso il 3 giugno dell'anno scorso per le sue denunce contro i caporali che sfruttavano la mano d'opera straniera. Oggi la CGL di Caltanissetta, col segretario generale della Camera del Lavoro e segretario organizzativo della CGL Sicilia Ignazio Giudice, ha firmato il mandato alla legale Maria Ricotta per la Costituzione di parte civile. Una linea che la CGL porta avanti da un po' di tempo, sottolineando quale organizzazione di rappresentanza ai lavoratori, la sua posizione di parte offese è danneggiata dai delitti che li colpiscono. La CGL l'ha annunciato lo stesso giorno dell'omicidio di Adnan Siddiq, un giovane che lavorava nel settore tessile e che abitava con i suoi connazioni pakistani a Caltanissetta, che lavoravano invece nel settore agricolo, che tra i più esposti allo sfruttamento e soprattutto al fenomeno del caporolato, come in molte occasioni ha denunciato la categoria sindacale di riferimento, lo fa la CGL, che insieme alla CGL di Caltanissetta ha dato già tutti i documenti propedeutici alla richiesta di Costituzione di parte civile. Noi ci auguriamo e siamo ottimisti che il giudice possa accoglierla. Era un dovere morale, era necessario dare segnali forti perché di parole che nel frattempo invecchiano la Sicilia e l'Italia è piena e noi siamo anche stanchi di ascoltare tanti politici che speculano anche sui fenomeni così importanti invece di fare leggi produttive a difesa di coloro che sono sfruttati, pagati a 18 euro al giorno, sotto ricatto, anche per essere accompagnati nelle campagne dello sfruttamento. E parliamo di una Sicilia di agricoltura vive, di agricoltura prolifera. Ci sono tanti imprenditori agricoli per bene. Ci sono invece quelli legati anche alle consorterie mafiose che fanno tanti affari proprio sfruttando i lavoratori e nel caso di anno e anno minacciandoli più volte fino ad accolterlandolo, fino ad ucciderlo. Un fenomeno quello dello sfruttamento che in parte lambisce anche le campagne di Gela. Non esisterebbero al momento, secondo il segretario della CGL, veri e propri episodi di caporalato, ma con molta probabilità tanti lavoratori potrebbero essere impiegati sotto soglia al limite dello sfruttamento. E su questo il sindacato è in atto, un monitoraggio del territorio. Nelle campagne di Gela ad oggi noi non abbiamo rilevato fenomeni, diciamo, così delicati di caporalato. Sappiamo, anche dopo questa vicenda, per vari confronti che abbiamo avuto anche con la prefettura, con lo Stato, che c'è un'attenzione particolare. Sappiamo anche che molti ragazzi pakistani lavorano rispetto alla stagione della raccolta della frutta, anche nelle campagne di Gela e Niscemi. Sono convinto che non tutti gli addetti all'agricoltura vengono registrati come la legge dice e che quindi le giornate, in molte occasioni, non in tutte, sarebbe sbagliato fare di unerebbe un fascio. Anche qui c'è il fenomeno dello sfruttamento. Però noi ad oggi non abbiamo elementi per dire che a Gela ci sono fenomeni di minacce, di ritorsioni individuali rispetto a tante lavoratrici e lavoratori che magari alzano la testa per ricordare agli imprenditori che i diritti esistono, esiste la dignità e non deve essere lesa perché non c'è nessun motivo per lederla e perché è giusto applicare il contratto che è l'incontro perfetto tra imprenditori a livello nazionale e quindi le categorie di riferimento e sindacato di categoria.